Buongiorno da Edo, oggi è il momento di parlare di ChatGPT. Lo so che questo podcast ormai parla di intelligenza artificiale ogni due puntate, ma d'altra parte escono news davvero in continuazione. Di ChatGPT saprete già tutto praticamente perché è uscito la settimana scorsa e se ne è parlato molto, ma io ho voluto aspettare che arrivasse qualcosa di più croccante legato a questo software e ieri è arrivato attraverso Stack Overflow. Perché avesse bisogno di una rinfrescata? Parliamo di OpenAI, un'azienda leader nella ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Recentemente hanno rilasciato un nuovo modello di linguaggio chiamato ChatGPT che è stato progettato per imitare le conversazioni umane. ChatGPT è basato sul loro ultimo sistema di generazione di testo, GPT 3.5, rilasciato all'inizio di quest'anno. È più conversazionale rispetto alle versioni precedenti e può fare domande di follow up agli utenti e astenersi da rispondere a input inappropriati piuttosto che semplicemente generare sempre del testo. Alcuni test mostrano che ChatGPT non fornisce consigli pericolosi quando gli viene chiesto e cerca di correggere delle affermazioni errate. OpenAI ritiene che il modello dovrebbe essere più sicuro da usare perché è stato addestrato utilizzando il feedback degli esseri umani. Dopo aver fornito esempi di risposte utili a prompt casuali, i dati sono stati quindi classificati in ordine dal migliore al peggiore per guidare un sistema di apprendimento basato sulla ricompensa per la generazione di buoni input. Vi ricordate quando parlavamo del sistema di apprendimento basato su trial and error? Sostanzialmente è quella cosa lì. Al momento ChatGPT è in preview pubblica, quindi basta avere un account OpenAI, andare su chat.openai.com e quello che si presenta è l'interfaccia di una chat con cui si può iniziare a interagire. Peraltro riconosce molte lingue ed è perfettamente in grado di generare conversazioni anche in italiano. Veniamo quindi alla notizia del giorno. Stack Overflow, lo sapete, la piattaforma online dove sviluppatori e programmatori possono porre domande e ricevere risposte su vari argomenti di natura informatica, ha annunciato un ban temporaneo per le risposte generate dal bot di OpenAI a causa della loro frequente inesattezza. Stack Overflow ha detto che sta rinviando una decisione permanente sull'utilizzo delle risposte generate da IA per discuterne più approfonditamente, ma sta prendendo misure ora a causa del timore che ChatGPT possa essere sostanzialmente dannoso sia per l'organizzazione che per i suoi utenti. In una nuova policy intitolata ChatGPT è vietato, Stack Overflow ha affermato che la percentuale media di risposte corrette di ChatGPT è troppo bassa. OpenAI include il debugging del codice come uno dei suoi usi, il che lo renderebbe un compagno ideale per gli sviluppatori. Abbiamo già visto che Copilot, che è basato su Codex, che a sua volta deriva da GPT-3, è un valido aiuto allo sviluppo e quindi ormai l'aiuto artificiale alla soluzione di problemi informatici è stato sdoganato, portando forse molti a credere che le risposte fornite dal modello siano sostanzialmente corrette. Tuttavia, gli admin di Stack Overflow hanno affermato che semplicemente non è così. Stack Overflow ha affermato che anche se le risposte generate da ChatGPT hanno un elevato tasso di errore, spesso sembrano essere corrette e sono facili da produrre. Questo è uno dei noti difetti del modello di generazione di testo basato sulla IA, noti anche come Grandi Modelli di Linguaggio o LLM. Questi sistemi vengono addestrati analizzando modelli di enorme quantità di testo estratto da internet. Cercano regolarità statistiche in questi dati e li utilizzano per prevedere quali parole dovrebbero venire dopo in una qualsiasi frase. Ciò significa tuttavia che mancano di regole codificate per l'operazione di determinati sistemi, il che li porta alla loro propensione a generare roba random che però suona molto bene. Data la grande dimensione di questi sistemi, è impossibile dire con certezza quale percentuale dell'output sia falso, ma nel caso di Stack Overflow l'azienda ha giudicato che per il momento il rischio di ingannare gli utenti è troppo elevato. Inoltre il gran numero di queste risposte è il fatto che spesso richiedono una lettura dettagliata da parte di un esperto per determinare se siano corrette, ha sommerso la loro infrastruttura di controllo qualità basata su volontari. Per affrontare rapidamente il problema, Stack Overflow ha dichiarato di voler prendere provvedimenti contro chiunque pubblichi risposte o nuovi post generati da chat GPT, anche se tali post sarebbero altrimenti accettabili. OpenAI non ha ancora commentato sull'argomento e Stack Overflow ha aggiunto che prenderà decisioni su questo e altri tool simili, ma quando questo avverrà e in cosa consisteranno le limitazioni non si sa ancora. C'è una certa preoccupazione che questo si possa ripetere su altre piattaforme, con un'ondata di contenuti di AI che soffochi le voci degli utenti reali con dati plausibili ma non corretti. Esattamente come questo potrebbe svilupparsi dipenderà dalla natura di ogni piattaforma e dalla sua capacità di moderazione. Se questi problemi potranno essere mitigati in futuro utilizzando strumenti come migliori filtri span, rimane da vedere. Vi lascio anche un articolo molto interessante di Ben Thompson che si intitola AI Homework, cioè più o meno compiti a casa con l'intelligenza artificiale, che parte da una ricerca di storia che sua figlia doveva fare per la scuola. Thompson chiede a ChatGPT se Thomas Hobbes credesse nella separazione dei poteri e la risposta è un chiarissimo sì, corredata da citazioni del suo libro Leviatano e molto ben posta. Il problema è che è completamente sbagliata, perché Hobbes credeva nell'assolutismo della monarchia, cioè tutto il contrario. In realtà devo dire che io ho riprovato a porre la stessa domanda a ChatGPT e mi ha risposto correttamente, di no ovviamente, motivando in maniera sensata. Quindi probabilmente sta imparando proprio dai feedback di questo tipo dagli utenti. Comunque l'articolo procede con un'analisi sulle capacità del modello, facendo un distinguo tra le risposte di tipo deterministico, tipo quella di una calcolatrice, e quelle di tipo probabilistico, includendo anche il caso della sorta di virtual machine ricreata in ChatGPT. Vi lascio anche quel link perché fa molto ridere. In sostanza quello che sostiene l'articolo e che penso anche io è che l'istruzione, ma con lei anche la società, noi dobbiamo evolvere, fare uno step evolutivo e adattarci all'inevitabile sovrabbondanza di informazioni, prendendo sostanzialmente tutto come inaffidabile. Quello di cui dobbiamo fidarci sono le persone, gli esperti, gli unici dotati degli strumenti e delle capacità di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, o di editare il contenuto generato dalla IA in qualcosa di vero o di bello, come nel caso dell'arte. Questo è il vero valore. Il contenuto va considerato come sostanzialmente gratuito e liberamente disponibile. Ecco perché come programmatori non ci aspettiamo di essere pagati per linea di codice prodotta. Il valore sta nella soluzione migliore possibile al problema, non nella quantità di contenuto scritto. E ho terminato anche questa puntatissima monografica, stavolta pure con considerazioni personali, ormai sto evolvendo anch'io. Grazie di avermi seguito, spero che vi sia piaciuta. Alla prossima. Ciao.